Siamo alla palestra Panetti e siamo a vedere all'allenamento del Custorino un amico Diego Calzavara. Ciao a tutti. Diego Calzavara l'anno scorso, giocatore 94, guardia, grande talento, l'anno scorso l'ha passato a letto, quest'anno gli hanno detto vedi che è ora che ti hai anche la barba e devi giocare. Quali sono le tue aspettative finalmente, adesso non partiamo di scherzzi, riduce da un brutto infortunio, quest'anno si rimette in gioco, il Custorino ha dato una grande opportunità, una squadra importante, una squadra che punta sui giovani, lui è uno dei giovani su cui il Custorino punta. Prima di tutto spero di rientrare al 100% in forma, visto che ho ancora dei risentimenti dall'infortunio, poi spero di far bene, di piacere a coach Arioli e come va, va, diciamo che gran parte sarà merito mio se mi ritaglio uno spazio di squadra. Nuovo coach esigente, lo conosciamo a Torino, Antonello Arioli, allenatore vincente, ha un progetto lungo con il Custorino e in questo progetto è una bella sensazione farne parte, poi sarà a te ovviamente cercare di meritarlo. Beh, questo è vero, perché poi un allenatore come lui è molto bravo, ti chiede tantissima pressione in difesa, è anche piacevole giocarci assieme, avere lui come allenatore, poi a me piace come allena, come scherzoso nei confronti dei giocatori, simpatico, anche fuori, quindi un coach quasi perfetto, diciamo. Questa intervista è stipendiata ed è un promo che ovviamente Diego ci ha chiesto per avere del minutaggio e lo ringraziamo, grazie Antonello, ricordati Calzavar deve giocare tantissimo. Grazie mille, ciao a tutti. Ciao. Grazie. Con questo sempre.